A quasi 5 anni dal sisma, nel 2016, a Teramo, il sindaco d'Alberto ha firmato una nuova ordinanza di sgombero per due palazzine di proprietà dell'Ater, Sita e in via Spataro nella frazione di Colle Atterrato Alto. Questo perché i due immobili, che avevano una scheda di tipo B e dovevano essere sottoposti a un'opera di miglioramento sismico, in sede di progettazione degli interventi è emerso quello stato del calcestruzzo e talmente ammalorato, che non consentirebbe di tornare a un grado di sicurezza tale da riconsegnare delle abitazioni sicure. Le famiglie interessate sono 10, 10 nuclei familiari che mercoledì scorso io e il sindaco abbiamo cercato di contattare e di incontrare personalmente proprio per spiegare loro cosa fosse successo, sostituendoci anche un po' a quello che è l'ente preposto a contattarli, insomma territoriale. Sicuramente i residenti si sono sentiti spaesati e anche piuttosto sconfortati. Con il sindaco si è cercato di spiegare loro, di rassicurarli innanzitutto perché per fortuna è possibile avere ancora a disposizione le case Smea, quelle le case acquistate dalla protezione civile proprio per il sisma. Per loro diciamo che prima di procedere con l'avvio del terzo bando di assegnazione delle case si cercherà di dare una risposta immediata a queste famiglie che si sono ritrovate purtroppo dall'oggi al domani senza un punto di riferimento e un'abitazione. Si è detto loro comunque che i costi dei traslochi, i costi degli allacci così come è stato previsto per i primi due bandi sarà garantito anche a loro, anche qui per cercare di rassicurare e di rassenerare un pochino gli animi rispetto a una condizione piuttosto preoccupante per loro. Ad oggi sapevamo di avere come comune 23 alloggi ancora a disposizione delle case Smea, invece anche qui abbiamo scoperto essercene ancora 29, questo ci permette di riuscire a dare delle risposte sul territorio sperando insomma di uscire il prima possibile da questa condizione di disagio. Queste palazzine che fine faranno? Verranno demolite? Sì, purtroppo l'Ater ci ha comunicato che queste palazzine rientrano tra quelle per cui è prevista la demolizione e la ricostruzione. Per il cronoprogramma aspettiamo ancora che l'Ater ci comunichi più o meno i tempi della ricostruzione. Sicuramente saranno efficientate, questo vorrà dire che ci troveremo di fronte a delle palazzine di nuovissima generazione ma chiaramente questo aumenta un po' le preoccupazioni dei residenti.